Cara Michela, cerco di scriverti questa lettera, forse l'unico modo per riuscire a farti capire il mondo in cui sono costretto a vivere. Nessuno si rende conto di quello che mi succede. Io stesso non so cosa mi sta succedendo. Un tempo riuscivo a parlare con le persone e a camminare senza dovermi chiedere se il pavimento c'è. Ora mi sento solo, maledettamente solo. Ci fossi stato almeno tu qui accanto a me. Non potrò mai essere più quello che ero. Ho paura.